Sono le 17.54 minuti primi a Radio Monte Carlo e io sono Mariella Vitale e dietro la macchina c'è Maurizio Di Maggio. Ok, Mariella Vitale vieni qua, voglio tirare le cuffie senza tirare i fili. Vengo con le cuffie di Radio Monte Carlo. Sì, vabbè, sono delle cuffie normalissime. È un onore per me avere Maurizio Di Maggio alle riprese. Alla regia, Maurizio Di Maggio. Alla voce, Maurizio Di Maggio. Alle tastiere, Maurizio Di Maggio. In portineria, Maurizio Di Maggio. Di Bigazzi Pace Di Maggio, questa era... Monte Carlo! Grazie, il mio sogno si è realizzato! Una volta ci vuole poco. Ci vuole niente, ragazzi. Sì, no!